Musica Oh allora, gioveni amici di Facebook Unboxing super velocissimo È un kit stampa Che però è sicuramente molto figo Quindi volevo farvelo vedere È per il cine social Di Deadpool che è appena uscito In digitale Dall'inizio settimana se non sbaglio E uscirà in DVD e Blu-ray Il 10 Cine social cos'è? Praticamente è un evento social In cui guarderemo tutti quanti assieme Deadpool Fondamentalmente dalle 9 di domani Giovedì 9 giugno Dalle 9 di sera La 20th Century Fox vi invita A commentare appunto la visione Di Deadpool sui social Con gli hashtag Deadpool digitale o Deadpool DVD Molto figo Mi hanno mandato questo kit Per aiutarmi a guardare meglio Deadpool Vediamo che cosa c'è dentro Allora c'è questa Che intanto spacca direi Quindi berretta di Deadpool Con maschera di Deadpool Che vado ad aprire e a indossare Per fare l'unboxing Mi sembra importante Beanie Hat Carino Poi cos'altro c'è? C'è un Funko Pop di Deadpool Bravi Mi piacciono molto i Funko Poi un portachiavi 3D Magnet Un magnete 3D di Deadpool Fighissimo Questo finisce su Il mio frigo Insieme a tutti gli altri E poi c'è il Come lo aspettavo È il DVD Sì è il DVD Ho già preordinato comunque Anche il Blu-ray per me Tra l'altro vi ricordo che Su Amazon c'è una versione speciale Con delle cartoline Una versione speciale numerata Oppure lo Steelbox È già preordinabile E sarà disponibile Da venerdì che è 10 Se non sbaglio Vediamo se c'è altro Direi di no C'è una letterina Ciao come promesso Ecco a te un kit di buona visione Di Deadpool Per permettere di partecipare Al Cine Social Giovedì 9 giugno Alle ore 21 E di interagire Con tutta la nostra community In diretta Attraverso i tuoi canali social Ti aspettiamo in rete Allora vi invito anche Voi che mi state guardando A partecipare a questa roba Del Cine Social Quindi uniti tutti Dagli hashtag DeadpoolDVD E DeadpoolDigitale Ci guarderemo Deadpool dalle 9 di sera Tutti quanti insieme E commenteremo le diverse scene Ce ne saranno un infine In Italia Deadpool è veramente una meraviglia Per cui Non sarà un problema Commentare scene belle In questo film Se vi piacciono I miei piccoli unboxing E queste paraculate Per la stampa Sicuramente vi è piaciuta Ma siete super invidiosi Commentate sotto Fate un like Fate share E ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi 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 Ciao ragazzi